ciao amici sapete perché gli oli essenziali si chiamano così perché quando iniziamo a usarli diventano essenziali e non possiamo più farne a meno e anche perché rappresentano l'essenza della pianta si estraggono con la spremitura distillazione o estrazione delle sostanze più nobili delle piante o dei frutti oggi parliamo dell'olio essenziale estratto dalla buccia del limone voglio farvi vedere sette benefici speciali per noi e uno per la casa se vi piace l'idea mettete un bel mi piace tanti mi piace altri nuovi video 1 antibatterico e antivirale ottimo alleato contro tosse raffreddore e negli stati influenzali le proprietà antibatteriche degli oli essenziali sono state dimostrate da studi scientifici ne trovate uno molto interessante in descrizione in caso di malattie da raffreddamento due gocce in un cucchiaino di miele 2 digestivo e carminativo utile in caso di digestione difficile nausea e gonfiore addominale si mettono due gocce in un bicchiere di acqua calda con un po di bicarbonato 3 astringente antibatterico amico della pelle per contrastare le pelli impure con acne e punti neri si applica puro su un cotton fioc direttamente sul brufolo per asciugarlo o sulle zone con eccesso di sebo o punti neri attenzione non esagerare 4 stimola la circolazione contro cellulite ritenzione idrica gambe pesanti diluire 15 gocce in 50 millilitri di olio da massaggio vegetale e frizionare bene 5 iperemizzante può aiutare anche in caso di geloni dati dalla cattiva circolazione sempre diluito nell'olio applicato sulle mani e piedi aiuta la capillarizzazione 6 rinforzante è utile per rinforzare le unghie fragili che si spezzano e si sfaldano aggiungere una goccia a un cucchiaino di olio di ricino e massaggiare bene le unghie 7 stimolante è utile per stimolare il sistema nervoso migliora l'umore la concentrazione usato nell'ambiente nel diffusore favorisce la gestione dello stress e per la casa è un ottimo detergente è un ingrediente naturale utile per fare le pulizie e diffondere il suo aroma si mettono 20 gocce in un bicchiere di alcol o aceto bianco e si passa sulle superfici del bagno e della cucina è perfetto e anche antibatterico ma dove troviamo quello davvero puro senza chimica in descrizione metto il link alla mia selezione di oli essenziali di limone puri e di qualità adatti all'uso interno ed esterno non usate quelli che trovate insieme ai diffusori a pochi euro perché sono profumi chimici non oli essenziali e non sono efficaci per la salute prima dell'utilizzo verificare di non essere sensibili o allergici provandone una piccola quantità puro sulla pelle ho descritto l'uso di diversi altri oli essenziali in questo mio video andate a vederlo è interessante per approfondire i miei argomenti naturali iscrivetevi al canale pubblico ogni giorno video utili al benessere iscrivetevi anche alla mia pagina facebook simona veniali naturopata e al gruppo trendy e sani per sostenere il mio lavoro restare aggiornati e chiedere consigli naturali in descrizione il link al mio sito a tutti i miei libri ed ebook e alle mie playlist video vivi consapevole e vivi meglio